Benvenuti dentro l'Umanitas Cancer Center, oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Alberto Testori, capo sezione della chirurgia toracica di Humanitas, con cui parleremo dei problemi della diagnosi e della stadiazione del tumore polmonare. Grazie Alberto di essere qui con noi. Grazie a te. Ti farò una serie di domande e cerchiamo di aprire un dibattito che sia chiaro e facilmente comprensibile. È possibile per un paziente accorgersi di avere un tumore polmonare, avere il sospetto di un tumore polmonare? Quali sono i sintomi che possono indurlo verso un accertamento in questo senso? Normalmente i sintomi possono consistere in una mancanza di fiato, quella che noi chiamiamo dispnea, nella presenza di una tosse coercitiva che si protrae per tanto tempo, dolore toracico, presenza di sangue nell'espettorato, fino ad arrivare ad un dimagrimento, quindi ad una perdita di peso importante, anche se a volte il riscontro di una neoplasia del polmone può essere occasionale, ovvero in seguito all'esecuzione di alcuni esami fatti magari come check-up, per cui una lastra del torace, piuttosto che un attacco ronarica per lo studio della funzionalità cardiaca, oppure in seguito magari ad una lastra del torace che viene fatto come esame preoperatorio per un altro tipo di intervento. Sì, però non possiamo purtroppo negare che ancora oggi in molti casi, quando comparano i sintomi, quando si fa diagnosi, la malattia sia in una fase estesa, in una fase metastatica, quindi in una fase sicuramente non candidabile a chirurgia, questo penso che rimanga un grosso problema nell'ambito del tumore polmonare. Assolutamente sì, infatti di 100 tumori diagnosticati all'esordio quasi il 70% non sono operabili d'amblè, quindi o metastatici come dicevi tu o malattie localmente avanzate. Speriamo di ridurlo con lo screening. Assolutamente. Investiamo su questo, o su smettere di fumare che sarebbe la cosa assolutamente preferibile, però siamo arrivati comunque, in seguito a questi sintomi o all'occasionalità del riscontro, a diagnosticare un tumore polmonare, a vedere una lesione polmonare sospetta. Quali sono quindi gli esami, gli accertamenti che si fanno a questo paziente? Allora, dopo la lastra del torace che normalmente è il primo esame, si esegue ovviamente un attack del torace con e senza mezzo di contrasto e una volta identificata la lesione si completa diciamo così la stadiazione con un attack dell'addome e dell'encefalo con mezzo di contrasto proprio per vedere se negli altri organi non ci sono diciamo cellule tumorali provenienti dalla neoplasia che abbiamo diciamo diagnosticato. Rebdi la PET indispensabile in questi pazienti nella stadiazione? La PET ormai è diventato un esame nella pratica clinica che si fa praticamente sempre e soprattutto perché ci dà delle informazioni importanti sull'estensione della malattia ovvero se ha già interessato altri organi quale fegato, surreni, ossa, pleura e soprattutto a livello linfonodale quindi i linfonodi dell'ilo del polmone piuttosto che del mediastino. è un esame di facile esecuzione, si utilizza un mezzo di contrasto che non dà forme allergiche e si basa sull'utilizzo di uno zucchero che va a legarsi alla cellula tumorale. Forse è bene ribadire anche un concetto che non è chiaro a tutti i pazienti, il fatto che la PET comunque non faccia vedere il cervello e che in questi pazienti è indispensabile un attacco o una risonanza dell'encefalo perché l'encefalo è una sede comunque di frequente coinvolgimento nell'ambito del tumore polmonare. Assolutamente sì, la PET diciamo che studia dal collo in giù, è escluso l'encefalo, bisognerebbe richiedere una PET apposita ma che però non ha nessun senso, per cui la stadiazione come dicevamo prima viene completata o con un attacco dell'encefalo con mezzo di contrasto oppure con una risonanza magnetica sempre eseguita con mezzo di contrasto. Siamo arrivati a questo punto, come procediamo? Sappiamo che abbiamo un tumore polmonare, localizzato, esteso, un sospetto in questo punto dobbiamo dire tumore polmonare, qual è il passo successivo fondamentale, necessario? Il passo successivo è la diagnosi, cioè dare il nome corretto a quella determinata malattia. Noi sappiamo che esistono più istotipi, ad esempio adenocarcinoma polmonare, il carcinoma spinocellulare piuttosto che il carcinoma piccole cellule. E la diagnosi è importante perché a seconda del tipo di malattia io la posso curare con farmaci diversi. Per cui il primo esame che normalmente viene richiesto è la broncoscopia, che però non sempre riesce ad essere diagnostica perché la neoplasia dovrebbe essere abbastanza posizionata vicino ai bronchi, quantomeno segmentali, in modo da riuscire a fare delle prese bioptiche e dare del materiale all'anatomo patologo per una diagnosi corretta. Quando la neoplasia è invece più periferica o anche centro-lobare, si procede con un'agobiopsia tag guidata, che consiste nel prendere dei piccoli frammenti della neoplasia e permettere quindi all'anatomo patologo di dirci se è un adenocarcinoma piuttosto che un carcinoma spinocellulare o un'altra variante. E fare le indagini aggiuntive oggi indispensabili, come la ricerca delle mutazioni o del test per l'immunoterapia, che comunque condizionano. Ti chiedo due precisazioni. Una, tu dici che la broncoscopia è fondamentale, ma non hai la sensazione che si stia passando di più alle biopsie tag guidate? E la seconda, questo ovviamente per le malattie localizzate a livello toracico, quando invece purtroppo la malattia è metastatica, la stessa cosa la puoi fare magari facendo una biopsia in un'altra sede più facilmente accessibile. Assolutamente sì. Allora, la broncoscopia, diciamo che viene richiesta come un esame di routine, soprattutto in centri periferici, dove la dimestichezza in un'agobiopsia non è così, diciamo, frequente come può essere nel nostro istituto o in tanti altri istituti che trattano questa patologia. Per cui viene richiesta come un esame, il primo esame broncoscopia. Spesso e volentieri, come giustamente dicevi, la diagnosi non avviene e per cui si passa poi a l'agobiopsia anche e soprattutto in sedi, diciamo, secondarie proprio per dare sia stadio che malattia alla neoplasia in esame. Ci riesci a spiegare un altro esame che prima non è accennato, ma che anche nella nostra pratica mi pare frequente, che è la eibus? Cioè, che cosa è e quando c'è l'indicazione a fare la eibus? La eibus non è altro che una broncoscopia, una video broncoscopia, con una sonda ecografica che quindi riesce ad individuare, soprattutto a livello mediastinico e ilare, i linfonodi se sono o meno patologici e riesce ad eseguire delle biopsie sotto visione diretta. E questo è fondamentale perché noi sapremo, grazie a questo esame, quei pazienti che andranno direttamente a chirurgia, piuttosto che quei pazienti che prima di sottoporsi a chirurgia faranno terapie mediche e non necessariamente trattamenti chemioterapici, ma come sappiamo negli ultimi anni, grazie alla ricerca che ha fatto passi da gigante, esistono queste target therapy che consistono in terapia biologica piuttosto che nell'immunoterapia. Cerco di mettersi in difficoltà con un'altra domanda. Capita frequentemente di vedere delle immagini toraciche dove c'è la lesione polmonare, ma poi magari ci sono piccolissimi focolai di pochi millimetri difficilmente identificabili, cioè definibili anche con le indagini più sofisticate, e quindi abbiamo magari un tumore tecnicamente operabile e poi questi piccoli nodulini magari diffusi a livello polmonare. Qual è l'atteggiamento da tenere in questi casi? Cioè spingere lo stesso sulla chirurgia? Perché hai un po' un'impossibilità, credo, a fare un accertamento ulteriore. Sì, allora, quando questi nodulini sono molto piccoli, quindi millimetrici, potrebbero anche essere esiti di un qualche cosa di pregresso e quindi non centrare necessariamente con la neoplasia. Se però magari abbiamo un esame, non so, di un anno o due anni prima, dove questi nodulini magari non c'erano, allora già, diciamo, la cosa diventa un po' più sospetta. Noi di solito, soprattutto se sono piccoli ma periferici, tendiamo in toracoscopia a toglierne uno di questi, quindi per capire se effettivamente questi noduli sono legati alla malattia e quindi il paziente andrà incontro a un trattamento medico, diciamo, definitivo, piuttosto che sono magari flogistici, linfonodi reattivi o comunque non attinenti alla patologia. Hai la sensazione che stia cambiando qualcosa nella statiazione, cioè l'impatto di nuove terapie, tipo immunoterapia, tipo terapie biologiche, associato meno a chemioterapia in una fase preoperatoria, quindi una buona riduzione. Sta modificando qualche cosa? C'è un differente atteggiamento dal punto di vista diagnostico iniziale o la valutazione post-terapia preoperatoria? Ma noi con l'utilizzo di queste terapie, quindi che siano terapie biologiche piuttosto che immunoterapiche, associate a volte anche a chemioterapia, ci ha fatto vedere dei risultati incredibili, nel senso che quando poi tu vai a operare queste neoplasie, sul pezzo operatorio definitivo, spesso e volentieri non viene neanche più riscontrata una cellula tumorale, magari partendo da delle situazioni localmente avanzate con un interessamento già noto dei linfonodi e con una grossa magari lesione polmonare. E all'esame istologico definitivo tu noti effettivamente una scomparsa totale della malattia grazie ovviamente alle terapie medie. Quindi possiamo dire che oggi dovremmo parlare non solo di stadiazione, ma anche dell'importanza della risadiazione, perché chiaramente soprattutto nelle forme localmente avanzate un'accurata rivalutazione, un'interpretazione del risultato può essere estremamente utile per spingere il chirurgo a operare un paziente che magari inizialmente risultava non operabile o ai limiti dell'operabilità. Assolutamente, tant'è che spesso quando proprio la malattia si presentava in una fase veramente tanto localmente avanzata e che subisce effettivamente una risposta importante prima di operarlo ristadiamo, a parte con la PET e con la TAG, ma anche con la E-Bus per vedere le stazioni linfonodali se effettivamente sono ancora interessate, soprattutto quando erano più di una oppure sono regredite con la terapia. E a quel punto interveniamo chirurgicamente. Grazie Alberto, mi sembra che si sia affrontato il problema della diagnosi e della stagiazione in maniera accurata, esaustiva e soprattutto un altro messaggio che sta ritornando frequentemente nell'ambito dei vari argomenti del tumore polmonare che stiamo affrontando, la grossa evoluzione che c'è nella diagnosi, nella stagiazione, nel trattamento e nelle possibilità che questi pazienti hanno. L'importante è cercare di fare sempre tutto al meglio utilizzando tutte le armi oggi disponibili. Grazie a tutti e grazie in particolare al dottor Testori. Grazie Armando.